Musica La squadra di Duco Carminucci Croissare Brava Ce l'ha che dice? Si Bello we vídeo ca no O Maroon! Stiamo vedendo... Maroon! Questo che poi mi direi Esci! Esci! Pallo! Eh! Evite l'avviso di Mutante Oh guarda qua! Domani però... Ficchia! Ficchia! Anche se... Vado! 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 E' bellissimo! E' normale che è tra la pace? Va bene! Vas, vas! Domenico! Vado! Grazie! Bravo Polo! Stai venuto a farlo! No! Tutti le pisse! Vado! Vado! Bella! bella il giugnale io e il sopio siamo tre siamo tre siamo tre ahhh la cittina è la forza con la giornata scusa spazzami del 5 al comando di 2 oh io poi mi porto due donate a trovare disini no 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 angolo no no ancora aperto ehi come porto io anche una volta di due minuti due minuti ma quant'è 5-4 5-4 5-4 la segnalo la segnalo si 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 E' andato. Non è un problema. Non è un problema. E' un problema. Non è un problema. Fai a mangiare. Cuali! Ah. Non lo faccio. Chiama Pregnaro. Un problema. E' andato a 5 rondate. Con stringere a calciare. E' andato a 5 rondate. Mi raccogliere. Ed è andato a 3. Ma non lo faccio. Non le faccio. Ma tu hai visto che a 4 parti rimane? Non c'è tanto. Non c'è tanto. Non c'era male. Ma non Tengo la squadra della Nasi Cioè in realtà saremo sempre bravi La partita rimane sempre a così Perciò non si fanno mai a 6-5 Massimo spostati No, non è che stanno in promozione Grazie Si Grazie Handicap a meno dieci si sta, si. Grazie.